Vieto, ti preoccupa il suo stato d'animo? Puoi trovare chiare risposte e risolvere i tuoi problemi chiamando il mago Letterius. Riceve in qualsiasi parte d'Italia e per l'estero riceve a Barcellona, Madrid per la Spagna e anche nella zona del Portogallo. Il mago Letterius rivela verità nascoste che sono in te, porta luce nella tua vita. Ti protegge da ogni azione negativa e porta nella tua casa serenità e successo. Raccontiamo la disperazione di una madre, la signora Anna Cantaluppi di Como, che si è affidata con fiducia al mago Letterius. viveva una situazione di difficoltà per un figlio di 35 anni, sposato, il quale stava vivendo da circa 7-8 mesi una relazione con una donna più grande di lui, mettendo in crisi il rapporto con la moglie e con i genitori, quindi con la signora qui presente. È rimasta soddisfatta dell'aiuto del mago Letterius, infatti ora la situazione è tornata felice come un tempo, ed è per questo che la signora Anna si trova qui. Come mai signora da Como è arrivata ad Ascoli Piceno ad incontrare il mago Letterius, quindi un viaggio così lungo? Perché avevo provato tanti altri maghi e non ho risolto il mio problema. Grazie. 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 Grazie.